Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi non rifacendo l'intro 400 volte. Bentornati in questa seconda puntata di fila del Porocast, come vi ho detto ho intenzione di far diventare questo progetto un appuntamento spero settimanale ma comunque abbastanza frequente sul canale e anche oggi seguiremo il formato della scorsa volta. Vi darò un po' di aggiornamenti su quello che è il futuro immediato del canale e recupereremo anche delle notizie che magari non sono riuscito a trattare nei video della settimana. Tra l'altro questa settimana è proprio perfetta, settimana ricchissima, sono riuscito a fare tre video, tanti shorts, anche di questo parleremo poi verso la fine di questo podcast e niente, per ora le cose funzionano quindi finché vanno, finché funzionano prendetele e soprattutto non lamentatevi. Proprio per questo io ringrazio infinitamente Otagi Retro Games per sponsorizzare anche questo video ma soprattutto ringrazio tutti voi per fare tre semplici cose. Supportatemi, sopportatemi ma soprattutto datemi i sordi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo. Ma questa volta, a differenza della precedente, parto subito con una comunicazione di servizio e poi passiamo alle notizie. Allora, oggi sarò in live su Twitch, non so se riuscirete a vedere questo video in tempo o ascoltare questo video in tempo, probabilmente no, però vi dico, già ieri ho fatto un esperimento molto particolare, una bella novità per il canale, dove sostanzialmente sono andato in live in IRL, in real life, all'interno di una fiera dello scambio, un mercatino dell'usato diciamo, incentrato sul giocattolo vintage, sui giochi d'epoca, che però ha anche una bella componente di retro gaming. Per chi sta guardando il video vi faccio vedere un attimo questa bellissima reaction, un po' come si è svolta la cosa. Ho fatto questo esperimento dove, appunto, andavo in giro e filmavo quello che c'era per i vari banconi, parlando anche, scambiando due chiacchiere con i vari banchisti. E niente, insomma, è stato un esperimento molto particolare. All'inizio ho fatto la live in verticale, poi sono riuscito a sistemarla. La qualità, insomma, è quella che è. Purtroppo non ho un gimbal, una steadycam, quindi, insomma, fa venire un po' il mal di mare. Però, alla fine, le cose sono andate. Qui è anche un momento molto particolare dove inizio a contrattare per prendere una Wii Mini, che spoiler, ho preso. Secondo me è una cosa che funziona, io mi sono divertito molto a farla. In chat i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Oggi la replichiamo, cercherò di fare anche qualcosa di più specifico. Magari cercherò di chiedere agli standisti se hanno voglia di mostrarmi qualche pezzo bello raro. C'erano delle cose molto, molto affascinanti, tra l'altro. E poi, soprattutto, tutto questo mi tornerà utile poi per creare dei reel o degli shorts, vedete voi come chiamarli, dove appunto farò vedere, insomma. Perché vedo che vanno molto queste cose dei mercatini, effettivamente poi è una cosa che ho sempre fatto sin dagli albori del canale. E ora che c'è la possibilità di registrare questi contenuti in live e poi riproporli come pezzettini spezzettati, eccetera, eccetera, secondo me c'è senso farlo. Io mi diverto molto, ovviamente è sempre un processo in divenire, ovvero le cose per adesso vanno un po' a cagare, però insomma c'è tanto cuore in quello che faccio. Vi consiglio di recuperare questo pod che comunque diventerà un reel dove cerco di contrattare per la Wii Mini, molto divertente. E niente, sarò in live penso verso le 16, se riuscite a vedere in tempo questo video bene. Comunque seguitemi anche su Instagram perché là vi darò le comunicazioni bene sulle tempistiche per quando mi potrete trovare in live. Vi ripeto, non qua su YouTube ma su Twitch. Poi dico qua su YouTube ma in realtà qualcuno di voi magari mi sta ascoltando da altre parti. Vi dico anche questa cosa, i podcast torneranno presto su Spotify ma non so perché, non so per quale motivo, non riesco a caricare i file mp3 su Spotify for podcasters. Insomma mi stanno remando contro i poteri forti e quindi devo sistemare questa cosa però l'intenzione c'è di farla diventare anche un podcast esclusivamente audio. Detto questo passiamo ad alcune notizie, in realtà queste non sono vere e proprie notizie ma sono correzioni e aggiornamenti su cose di cui abbiamo già discusso. Innanzitutto partirei con del sano debunking, visto che stiamo portando avanti tantissimi rumor riguardanti Switch 2. Beh questo qua è interessante perché c'eravamo lasciati qualche tempo fa dicendo Ah porca miseria a settembre ci sarà di sicuro, di sicuro il Nintendo Direct perché stanno succedendo troppe cose eccetera eccetera. Spoiler, siamo 30 ottobre, questo Nintendo Direct non c'è stato. Tra l'altro una delle notizie che sembrava dare più credito a questa ipotesi del Direct a settembre era il fatto che tanti creator fossero stati invitati al quartier generale di Nintendo ed era stato indicato come un VIP event, ovvero un evento riservato soltanto alle Very Important Poro. E niente, però in realtà non è che sono stati là a mostrare la console né i nuovi giochi, semplicemente come riporta questa notizia. Era in realtà una preview del Nintendo Museum. Ha appena aperto o sta aprendo proprio in questi giorni, mi sa che le prime visite per il pubblico saranno a ottobre. E quindi niente, era un evento collaterale che non aveva nulla a che fare con la console, quindi mi dispiace segare così il vostro entusiasmo. Aggiungiamo anche una cosa molto interessante, questi invece sono dettagli molto più corposi, su quella che è quella misteriosa periferica per Switch 2 di cui abbiamo parlato in uno degli ultimi video. Quella che si pensa sia una misteriosa periferica, perché in realtà è semplicemente un brevetto depositato da Nintendo, che tra l'altro è pure, diciamo, sotto degli embarghi, quindi possiamo sapere veramente poco di questo device, come si configura, come è fatto e soprattutto qual è la sua utilità. Però insomma la gente sta cercando di scavare il più possibile e con i pochi dati che abbiamo a disposizione, prima sono state fatte delle ipotesi, poi sono state smontate quelle ipotesi con dei dati, poi quei dati sono stati smentiti e adesso abbiamo più o meno un quadro completo di quello che potrebbe essere questo device. E vi traduco al volo quali sono le caratteristiche di cui siamo abbastanza sicuri. Vi ricordo che è sostanzialmente quello che sembra non essere né un controller né una console con un'antenna Wi-Fi e un sensore di movimento al suo interno, che probabilmente ha anche una connessione USB-C. Quindi si pensava fosse un accessorio per Switch 2 pensato per sfruttare la nuova USB-C che c'è almeno sul prototipo sulla parte superiore della scocca. Allora, le cose che ci possono interessare sono innanzitutto le dimensioni del device, che a quanto pare sarà un cubo. Un cubo relativamente piccolo, perché si parla di 9 cm più o meno per lato, e di cui è stato fatto anche un... hanno stampato, diciamo, un modello 3D. Ora vi faccio vedere le immagini. Non oserei definirla proprio una stampa vera e propria. Hanno ricreato un cubo, ma giusto per farvi capire le dimensioni. Si tratta comunque di una cosa abbastanza contenuta, che entra nel palmo di una mano. Qui in questo video poi spiegano come potrebbero essere posizionate le varie componentistiche, che si è riuscita a capire saranno all'interno della device, leggendo appunto quello che sappiamo che è stato reso pubblico del brevetto. Le altre cose interessanti, qui fa addirittura una... per capire le dimensioni, addirittura fa una sorta di comparazione con una banana, però non so... non so a quanto serva. Però, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Vi ripeto, sono 9 cm al lato. Non è... non è assolutamente una... una periferica gigantesca. E le altre informazioni che possiamo ricavare da questa cosa, che innanzitutto è indicata come un wireless device, cioè un device senza fili, mentre la Switch originale era stata indicata come una game console. Quindi, di sicuro, non si tratta di una console. Questo device è indicato come un UMPC Portable Device, ovvero Ultra Mobile PC o simile tablet, e quindi si tratta di un qualcosa più o meno che rientra nel range degli apparecchi portati simili ai tablet. E soprattutto questa categoria degli UMPC, secondo l'FCC, che è l'ente dove è stato depositato il brevetto, sono degli apparecchi che hanno almeno un qualche tipo di schermo. Questa qua è un'informazione importantissima. E quindi è plausibile aspettarsi uno schermo o un lato di vetro sulla parte frontale del device. Inoltre, abbiamo detto, di sicuro non avrà la batteria. In realtà, no. Perché questa qua potrebbe essere una di quelle parti che è Redacted, ovvero è resa confidenziale, perché sempre, ora che sappiamo che si tratta di un apparecchio UMPC, questa categoria rientra tra i device portatili, quindi potrebbe essere che ci sia una batteria. Poi, importante anche, questi device sono pensati per essere tenuti in mano o portati in giro, e non sono pensati per essere messi su un tavolo o messi all'interno di una dock e lasciati in una posizione per più di un tot di tempo. Quindi, anche qua, non si parla assolutamente di quella che potrebbe essere la nuova console di Nintendo, se questa seguirà poi l'impronta della precedente. E poi, niente, ci sono altri dettagli che, secondo me, entrano un po' troppo nel tecnico e ci interessano relativamente. La cosa che dicono, appunto, è che è importante tenere a mente che, nonostante sì, le dimensioni saranno quelle di un cubo, potrebbero esserci anche degli innesti che si diplastica sui vari lati che cambiano poi la forma esterna. Il cuore rimane quello di un cubo, poi, effettivamente, come si presenterà il device al pubblico, questo non lo possiamo dire. E a questo punto possiamo iniziare a speculare su cosa sia questo device. Vengono tirate in ballo tantissime ipotesi, in realtà nessuno lo sa, potrebbe essere qualsiasi cosa. Cioè, anche un controller aggiuntivo stile paddone, anche una sorta di hub dove attaccare tante periferiche diverse, oppure, questa è la peggiore delle ipotesi, una sorta di radio sveglia, di clock device, di sveglia, appunto, che tiene traccia di parametri come la salute, anche i cicli di sonno, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe una sorta di espansione di Pokémon Sleep. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Però, insomma, è bello immaginarsi che questa potrebbe essere una delle novità interessanti di Nintendo Switch 2 e potrebbe essere quel quid in più che differenzia la console precedente da questa nuova. Fermo restando che potrebbe trattarsi anche di un esperimento, che ne so, come il Labo, che, appunto, magari sulla carta è stra-interessante, ma poi muore lì, più o meno, oppure è un'idea interessante che però viene abbandonata da Nintendo nonostante l'ottimo potenziale. Insomma, gli scenari possibili sono infiniti. Staremo a vedere, anzi, aspetto nei commenti di sapere cosa... Secondo voi, cos'è questo cubo? Potrebbe essere anche il GameCube mini reso portatile? Sarebbe, vabbè, un sogno, però... Fossi in voi, non spererei. Anzi, non voglio darvi questa falsa speranza perché poi ve la prendete giustamente con me e no, non andrebbe bene. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Qui siamo in pieno periodo del Tokyo Game Show 2024 e io sto saltando praticamente tutto quanto. Anzi, mi spiace tantissimo non aver parlato della conferenza Xbox. E ci sono state un bel po' di novità interessanti. Direi, rispetto allo state of play di Sony, forse leggermente più interessante, non c'è stato il bombone finale tra molte virgolette di un Ghost of Yotei, però forse è stata una presentazione un po' più a fuoco per quello che era il contesto. È chiaramente una presentazione pensata per il pubblico giapponese e in quanto tale è l'ennesimo disperato tentativo da parte di Xbox di fare breccia all'interno di un pubblico molto difficile da penetrare. che è detta così insomma non è che suoni proprio bene, bene, bene. Ci sono state un po' di cose interessanti. Mi sono preso un articolo che riassume più o meno tutte quante le novità. Ve le elenco in ordine un po' sparso. C'è stata un'espansione interessante di Age of Mythology che introduce la mitologia cinese. Poi un aggiornamento per Fallout 76 che introduce gli animali domestici se potranno pettare i doggy. Cioè bellissimo vi consiglio di recuperarlo un trailer di Indiana Jones che è uscito adesso a dicembre però doppiato in giapponese che fa un certo effetto molto figo. Poi il crossover proprio pensato per il pubblico giapponese con tra Overwatch 2 e My Hero Academia si dice così? Non lo so. Non l'ho mai visto come anime nel letto il manga. Sono troppo vecchio for this shit. E poi l'arrivo della remastered di Starcraft e Starcraft 2 su PC Game Pass il 5 novembre poi una serie di giochi ultra giappi di cui proprio solo vedere il trailer mi fa tipo esplodere mi fa venire il diabete. Un po' troppo per i miei gusti. C'è l'arrivo di Atelier Yumia su Xbox credo il primo Atelier che arriva su piattaforma Microsoft e varie cose tra l'altro un nuovo trailer di gameplay di Metal Gear Solid Delta e poi anche qui non si tratta di esclusive ma si tratta di segnali importanti di supporto da parte di terze parti molto molto incisive come Square Enix cioè Square Enix che ha annunciato appunto l'arrivo delle Pixel Remaster che si trovano ovunque anche su Ecosystem Xbox l'arrivo di Dragon Quest 3 HD 2D Remake anche su Xbox anche se penso che questo già lo sapessimo mi sa che ancora non era stato annunciato all'interno di un contesto Xbox per il 14 novembre questo gioco attesissimo tra l'altro molto vicino al mio compleanno è arrivata all'interno del Game Pass la remaster di Legend of Mana altro grandissimo titolo e poi c'è stata la presentazione della demo di Metaphor Re Fantazio che arriva anche su Xbox e tra l'altro ho sentito parlare un gran bene io non ho tempo di di provare cioè nel senso Mario avrei anche tempo di provare la demo ma poi non avrei tempo di giocarmi questo Metaphor che sembra interessantissimo ma veramente non è una delle mie priorità più impellenti quindi per ora passo però chi l'ha provato ne ha parlato strabene e c'è stato anche un nuovo trailer con tanto di intervista allo sviluppatore a Keishiro Toyama il creatore di Silent Hill gli originali il leader del Team Silent che presto tornerà con Slithered titolo che non mi convince per niente però insomma staremo a vedere poi c'è stato anche un trailer di Suiko Den 1 e 2 HD che prima o poi usciranno si spera a marzo e poi vari annunci collaterali anche titoli pensati proprio per il mercato giapponese tra l'altro vi segnalo anche su Game Pass l'arrivo di due episodi di Katamari Damacy capolavoro assoluto da giocare almeno un Katamari nella vostra vita ve lo dovete giocare visto che è su Game Pass potrebbe essere questa l'occasione giusta quindi mi dispiace non aver coperto tanto le notizie Microsoft in questo periodo parleremo anche del fatto che sono diventato Sony centrico sul mio canale però insomma il tempo è quello che è almeno adesso abbiamo recuperato ripeto non c'è stato nulla di sensazionale all'interno di questa presentazione però comunque è un bel segnale da parte di Microsoft che in realtà ci prova sempre un pochino ad avvicinarsi al Giappone però la risposta del pubblico è sempre quella che è però rimanendo sempre in ambito Tokyo Game Show abbiamo avuto questa notte un panel di oltre un'ora e mezza di circa un'ora e mezza noi esageriamo di Death Stranding 2 con il kojimone nazionale che è seduto sul palco insieme a tanti membri del cast giapponese e all'interno di questa lunghissima chiacchierata sono stati presentati anche dei trailer vi faccio vedere qualcosina mentre parliamo e in realtà forse è stato un appuntamento un po' deludente tra molte virgolette perché ci sono state insomma delle presentazioni importanti per quanto riguarda il cast quindi ci sono stati dei reveal importanti di cui non ricordo assolutamente i nomi però per esempio come il personaggio di Elle Fanning George Miller il regista di Mad Max e via dicendo e ci sono come al solito delle scenette assurde in piano stile Kojima foglia totale però a livello di gameplay si è visto ben poco se non fosse che stata introdotta questa modalità foto che non ha senso proprio completamente fuori di testa è proprio la la coronazione del sogno kojimiano del del voyeurismo proprio più più giapponese che si possa immaginare praticamente che poi queste cose ci sono sempre state nei giochi di Kojima già dai tempi del primo Metal Gear Solid non so se vi ricordate la modalità foto del del VR mission special mission qui soltanto è proprio diciamo la coronazione del sogno perché lo puoi fare con attrici famose che si mettono in posa con movimenti ultra realistici quindi è proprio il sogno dell'otaku che finalmente si realizza nessuno avrà mai più bisogno di uscire di casa dopo l'uscita di questo videogioco altro che riconnettere le persone in un mondo ormai diviso qui proprio tutti dentro casa e non si esce mai più ma questo diciamo event photo mode che sarà tra l'altro un photo mode aggiuntivo a quello che poi è il classico photo mode è stato praticamente l'unica cosa di gameplay che è stata mostrata e ancora più deludente dal mio punto di vista non c'è stata una data di uscita che per un gioco rimane confermato per il 2025 però insomma magari ci saremmo aspettati qualcosina di più però insomma fa sempre piacere vedere queste kojimate chiuderei con l'ultimo blocco dedicato a due aspetti che in un certo senso toccano direttamente il mio canale come avrete notato nell'ultimo periodo ho aumentato tantissimo i contenuti a tema playstation soprattutto negli shorts nelle reels o comunque nei video di breve durata e mi ha fatto ridere che ci sono stati un bel po' di commenti che hanno inserito tu puoi essere pagato da sony sony ti paga sei un venduto no un venduto non me l'ha detto nessuno però comunque capisco che possa esserci un po' di cambio di prospettiva su quelli che sono i contenuti del canale e in realtà non magari mi pagasse qualcuno anzi a proposito datemi i sordi diciamo che questo qua è sempre stato l'obiettivo del canale cioè quello di iniziare a parlare di videogiochi a 360 gradi non limitandomi esclusivamente a nintendo che comunque rimane la mia piattaforma di riferimento almeno per questa generazione cioè switch è stata una cosa proprio impressionante mi ha riavvicinato tantissimo al gaming però non l'ho mai nascosto sono diciamo un giocatore onnivoro mi sono anche formato su playstation 1 quindi insomma sono molto legato a playstation ma poi la generazione di xbox 360 e playstation 3 l'ho vissuta a 90% su xbox 360 quindi sono affezionatissimo anche alle prime xbox fermo restando che gamecube rimane la mia console preferita di sempre e quindi l'obiettivo è sempre stato quello di riuscire a spaziare il più possibile e in questo periodo di annunci molto importanti persone c'è un dato di fatto che i contenuti brevi funzionano tantissimo soprattutto se a tema playstation questo non significa fare dei contenuti modificando il proprio pensiero o arrivando a dire delle cose soltanto per fare il contenuto no semplicemente ho delle cose da dire le dico e adesso magari se fino a un anno fa una notizia riguardante playstation mi sarebbe convenuta metterla all'interno di un contenitore come il tg poro dove comunque il focus principale era sempre su nintendo in questo momento dove il mio canale riesce a raggiungere pubblico anche nuovo anche esterno posso tranquillamente permettermi e sono felice di farlo di parlare a un'utenza che magari non tratta giochi nintendo e non vede nintendo come la sua unica bolla e punto di riferimento non è un tradimento cioè se qualcuno viene così parte sti cazzi il problema è però insomma mi sembra anche un po' anche un po' esagerato i contenuti nintendo ci saranno sempre ci sarà sempre un occhio di riguardo per i giochi della grande n però voglio spaziare il più possibile mi piace spaziare il più possibile e trovo affascinante poi parlare di come sony si sta autodistruggendo perché poi è pure questo nel senso non ho fatto neanche i contenuti ultra positivi nei confronti di sony ma anzi sono sempre stato abbastanza critico e possibilista e insomma le ultime mosse sono state proprio strane comunque si parla sempre di disastri comunicativi dal mio punto di vista però vabbè non voglio approfondire più di tanto in questa sede però insomma spero vi piaccia che sto finalmente riuscendo ad abbracciare più contenuti possibili anche perché poi comunque va bene ascoltare i commenti va bene ascoltare le critiche però poi se uno dovesse ascoltare le critiche non farebbe più niente perché se parlo di switch 2 parli troppo di switch 2 se parli solo di nintendo se è un nintendaro a un certo punto uno qualche tempo fa mi ha scritto se è un nintendaro disfattista ormai lo abbiamo capito se è un disfattista e che cristo non sta bene niente se parli di sony e vabbè ma allora se è un sonaro se parli di xbox e vabbè se è un pc disfattista giustamente quindi vabbè pace su questo canale cerchiamo di parlare di tutto senza pretese di chissà quale serietà e autorevolezza semplicemente un appassionato che si diverte a cazzeggiare e proprio per questo vi starete chiedendo ma Poro che fine ha fatto la tua recensione di Ecos of Wisdom che tra l'altro molto furbescamente hai messo nel titolo di questo PoroCast beh la mia recensione è che ci ho giocato più o meno un'ora anzi no due orette ho fatto giusto il primo dungeon sto verso il secondo quindi non è che mi posso sbilanciare più di tanto di base magari in questi useremo questi podcast anzi questi PoroCast chiamiamoli per quello che sono per appunto aggiornarvi su quelle che sono le mie giocate su quelle che sono i miei avanzamenti di gameplay perché ragazzi non ho ricevuto il gioco in anticipo non e da una parte mi dispiace non aver ricevuto Preskit perché comunque da collezionista sono sempre un bellissimo regalo graditissimo eccetera eccetera dall'altro però comunque mi permette anche di vivermi le cose un po' più tranquillamente senza troppi obblighi sento anche più libero di proprio esprimere al mio ritmo i pareri avere tempo di maturare le opinioni eccetera eccetera quindi tanto ma alla fine ma le recensioni ma perché ma chi le vuole non le vuole nessuno quindi il gioco l'ho comprato come tutti voi fortunatamente mi è arrivato al day one e non il giorno seguente sabato o addirittura c'è chi gli arriverà lunedì mi dispiace tantissimo amazon ha tirato delle belle sole questa volta vi posso dire che non me l'ha spettato così bello almeno l'intro è spettacolare il primo dungeon è bellissimo e si vede un netto passo in avanti ma proprio c'è rispetto a link's awakening è un altro gioco e non me l'aspettavo perché alla fine l'impianto grafico è quello e quindi uno pensa di ritrovarsi di fronte a link's awakening remake 1.5 in realtà è proprio un'altra cosa c'è proprio un altro ritmo rispetto agli Zelda classici però allo stesso tempo c'hai quella sensazione di essere tornato a casa dopo tantissimo tempo che eri all'estero dopo un'assenza prolungata e risentire tutti quei suoni rivedere quelle meccaniche rivedere i dungeon è proprio è proprio bello cioè è proprio sentirsi a casa non saprei come altro dirlo per ora ce l'ho vista quella cosa di cui abbiamo parlato sempre che è un po' quella mediazione tra vecchio e nuovo in una veste grafica che secondo me però non gioca a favore del titolo perché appunto si è portati a pensare che sia un titolo minore proprio perché è 2D ha questo stile chibi ultra cute eccetera eccetera uno pensa che sia un po' un giochino in realtà ha fascia rogazza altro che giochino qui si tratta di uno Zelda importante l'unica cosa che l'unica critica che mi sento di muovere è veramente sono le performance minchia una cosa del genere l'avete visto perché l'ho iniziato a giocare un po' in live io cioè mi ricordo Link's Awakening andava male ma non mi ricordavo andasse così male sinceramente non l'ho neanche ricontrollato però la situazione è proprio fastidiosa negli spazi aperti è chiaramente un problema di ottimizzazione per carità il motore grafico non è gestito nel migliore dei modi però questo noi utenti finali alla fine che cambia è ovvio che Switch potrebbe far girare una cosa del genere gli sviluppatori non ci sono riusciti non ci sono riusciti nel 2019 non ci sono riusciti nel 2024 tra l'altro la cosa assurda che la stavo vedendo nella recensione di Digital Foundry la cosa assurda è che i rallentamenti sono triggerati proprio dal movimento del personaggio perché in dei punti dove ci sono dei cali di frame rate consistenti se si sta fermi e si muove la telecamera non ci sono non ci sono cali non ci sono troppo di frame rate quindi c'è proprio qualche problema di ottimizzazione che secondo me non verrà mai risolto uno potrebbe sperare di avere dei miglioramenti su Switch 2 ma insomma questo è il gioco questa è la console uno se lo guarda così poi per carità ragazzi pure io mi so appunto chi ha più di un tot di anni viene da un'epoca in cui se i giochi andavano a 15 frame al secondo era grasso che colava quindi dopo sette anni su Switch non mi faccio problemi se c'è la risoluzione adattiva se ci sono dei drop di frame rate eccetera eccetera però insomma fa un po' specie da vedere un gioco così male ottimizzato pubblicato da parte di Nintendo soprattutto quando si parla di un'epic così importante insomma si potrebbe si potrebbe pretendere qualcosina in più ecco da questo punto di vista per dire difetti del genere li faccio passare con molta più leggerezza su un Breath of the Wild o un Tears of the Kingdom quello sì e qui è già molto più difficile da digerire ecco un peccato ma ripeto poi alla fine non è che modifica l'esperienza così tanto è semplicemente un dato di fatto si poteva fare di più si poteva fare di meglio ma soprattutto si poteva fare di poro e niente questi erano un po' gli aggiornamenti sul canale sulle notizie eccetera questa settimana non so se riuscirò a fare un video lunedì probabilmente i video non lo so insomma devo vedere sarà una settimana molto impegnativa però insomma conto comunque di riuscire a fare due o tre pubblicazioni importanti penso che il prossimo videone bello strong bello grosso sarà un nuovo episodio della serie dove andiamo a cercare il migliore anno nella storia dei videogiochi e faremo un passo indietro perché abbiamo fatto il 1996 abbiamo fatto il 1998 questo terzo episodio sarà il 1997 proprio perché se le cose non le faccio a cazzo di cane non sono contento e quindi si torna indietro per andare avanti però insomma altra annata fenomenale si parla dell'anno di Final Fantasy 7 del primo Grand Theft Auto insomma c'è tanta roba di cui parlare e insomma non vi è l'ora di mettere in produzione un video del genere poi vabbè ci sono come al solito 10.000 cose collaterali oltre al canale YouTube mi trovate in live su Twitch almeno due volte a settimana anche oggi dopo questo podcast se volete fate un salto mi troverete a girare per mercatini dell'usato e ci sono tantissimi contenuti di forma breve Reels Shorts TikToks chi più ne ha più ne metta io vi ringrazio per essere arrivati anche questa volta in fondo all'ennesimo porocast vi voglio veramente bene vi ringrazio tantissimo se ci avete soldi da parte pensate alla malsana idea di investirli magari sul Porion tra l'altro lunedì sera ci sarà una live esclusiva per il tier acquisti poracci live dove con lo zoccolo duro degli utenti del Porion ci facciamo delle chiamate dove ci mostriamo gli ultimi acquisti e le aggiunte in collezione oppure insomma potete abbonarvi su youtube potete fare un po' quello che vi pare anche un like anche un commento anche una condivisione anche un pensiero anche una letterina anche una pacca sulla spalla va benissimo non mi resta di darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà voi mi raccomando fate i bravi riposatevi dormendo sonic tranquilli ma soprattutto nerdate duro io sono Poro Tokyo Michele Toissimi ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion il Patreon dei Poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Benvenuti sul Porocast l'unico podcast di internet un punto aaaaaaah